Soltare i bisogni e tradurli in soluzioni. Prego. Ciao Paola, grazie. Ringrazio tutti per l'invito. Fabio Ormete. Allora, farò rapidissimo. Tre punti fondamentali che hanno influenzato la pandemia e che in qualche modo possono essere presi in considerazione come punto di partenza. Uno, la densità. La densità abitativa ha messo in qualche modo in discussione il contesto urbano, se vogliamo. Ha messo in discussione le modalità stesse attraverso cui viviamo nella città. Più siamo vicini è più pericoloso, è più diventato pericoloso. Quindi rimettere in discussione questo aspetto della città ci avvicina ed è per questo che poi molti architetti, molti colleghi hanno incominciato a parlare anche di temi di cui non si erano occupati prima, come appunto le aree interne o il territorio in senso più lato. Ma questo aspetto della densità è un aspetto che ritroviamo anche in fattori molto più legati, più direttamente legati a quello che è la crisi climatica che stiamo vivendo. Pensiamo alle conseguenze che portano, che hanno sulla città, per esempio l'isola di calore, dovuta soprattutto a quello che è l'utilizzo dei materiali, ma anche alla mancanza di verde, la scarsità di verde che abbiamo all'interno delle nostre città. E pensiamo a come i territori che stanno intorno alle città siano in grado di compensare, quindi le esternalità provocate dalla città in qualche modo possono essere, avere anche un valore. Adesso chi mi ha preceduto ha già citato uno dei casi, un caso in cui è avvenuta questa compensazione, penso che si trattasse delle autostrade, ma che io sappia non è una cosa che è molto diffusa in questo momento. Ecco, secondo me questo può essere, e non so, secondo me, un punto di partenza molto interessante per riuscire a dare una struttura alla trasformazione e creare un reale rapporto di complementarietà tra città e territorio, tra borghi e città. Non quindi una contrapposizione, ma una collaborazione, una condivisione. Questo è il primo punto. Vado veloce al secondo, perché ho il cronometro davanti. Il secondo punto è, prima Paola facci vicendo alla centralità del progetto, assolutamente fondamentale, ma è un progetto che deve sempre andare a pari passo con un coinvolgimento delle comunità locali. Fabrizio Barca, in una bella intervista che ho letto oggi, credo uscita proprio oggi, cita l'approccio che lui ha, il place-based, che lavora più sulla capacità di ascolto delle comunità e il partire dal luogo per riuscire a mettere al sistema delle potenzialità che poi si esprimono nel fare rete in diverse situazioni. Questo ci porta ad una circolarità sistemica dell'economia, a un qualcosa che possa introdurre l'economia circolare in tutti i processi, anche in quelli dell'architettura. E qui entriamo nel terzo punto, che è quello del come si sta costruendo, come si costruisce. Questa è una cosa che a me sta particolarmente a cuore. Il fatto che si continua a costruire in Italia, penso che la stragrande maggioranza dell'architettura e molti dei miei colleghi continuano a costruire come si costruiva negli anni 60, 70. Di questo abbiamo già parlato con te, Paola. E questo continua a essere, continua a girare in cantieri ed è esattamente la stessa cosa. Ecco, ora per me questo momento di grande afflusso di denaro, questo momento di grande potenzialità dei territori, delle aree interne e dei borghi, deve diventare un reale campo di sperimentazione per costruire sostenibilità in architettura. La ricerca sui materiali, la ricerca sulle tecniche costruttive, la ricerca sulla tecnologia in termini di costruzioni stand-alone. Tutti aspetti che possono tranquillamente essere sviluppati in imprese medio-piccole che possono trovare la loro sede nelle aree interne e nei contesti di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie, grazie a te Alessio. Quindi densità...